E' stata presa una decisione eccessivamente rapida e secondo me non sufficientemente meditata. Questo è il commento del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in merito alla decisione assunta nell'assemblea dell'AIT nella conferenza territoriale dei sindaci a favore della prologa del servizio idrico a nuove acque, proroga che a questo punto sarà fino al 2027. Una proroga sulla quale il comune di Arezzo ha espresso il suo voto contrario e adesso ci potrebbe essere anche un ricorso al TAR. Perché è vero che sono stati fatti degli studi per valutare l'andamento delle tariffe in presenza e in assenza dell'allungamento, che sono stati valutati i nuovi finanziamenti che renderanno possibile la realizzazione di infrastrutture, tutto quello che si vuole, però secondo me abbiamo privato gli organi elettivi che sono quelli deputati a prendere scelte di questa portata della necessaria opportunità di esprimersi. Questo io avevo chiesto, nulla di più. Magari si sarebbe arrivati allo stesso risultato, ma saremmo stati tutti più convinti che era ciò che realmente la gente vuole. Non è stato fatto, ma noi si sta valutando con i nostri avvocati se ci sono gli estremi per ricorrere verso una decisione che, ripeto, appare eccessivamente poco meditata, troppo rapida e ingiustificatamente troppo rapida.